Ci hai portato anche delle immagini, immagini commemorative di una grande persona che ci ha lasciato purtroppo. Sì, come sapete ieri all'età di 90 anni ci ha lasciato Michael Collins, uno dei tre uomini dell'equipaggio dell'Apollo 11, l'epocale missione che portò l'uomo per la prima volta a sbarcare sulla Luna, pilota del modulo di comando da cui scattò questa epocale fotografia la sera, ora italiana, del 21 luglio del 1969, fotografando il modulo lunare Aquila che rientrava verso l'aggancio appunto col modulo di comando dopo aver portato i suoi due compagni di missione appunto allo sbarco sulla Luna. In questa fotografia l'autore dello scatto Michael Collins è l'unico essere umano a non comparire perché oltre ai suoi due compagni di missione sullo sfondo vedete c'è il nostro pianeta e proprio una settimana fa nella giornata della Terra Michael Collins scriveva se tutti vedessero come ho visto io fluttuare la Terra fuori dalla propria finestra sarebbe ogni giorno la giornata della Terra e descriveva appunto il globo terracqueo visto dallo spazio come la cosa insieme più bella e più fragile che possa capitare di vedere, di immaginare e quindi esortava a lavorare, a operare tutti i giorni per l'appunto, non solo in un singolo giorno per preservare la nostra casa. Nato a Roma, seppur se cittadino statunitense e quindi apportò anche un pezzetto di noi in quella immortale missione di esplorazione spaziale quindi questo scorcio di Roma con la luna piena sul copolone è un po' il nostro omaggio a questa appunto immortale figura. Lo salutiamo con il suo ruolo importante che ha avuto, anche le sue belle parole che hai citato tu questa sera è un piacere averne parlato con te, grazie anche per la nostra rubrica, per le previsioni di questa settimana di questo weekend, ci rivediamo lunedì, caro Filippo. Senz'altro, buon weekend a tutti. Bellissima questa rubrica che ha chiuso con le parole, è veramente importante, è davvero tutti i giorni il giorno internazionale della Terra quello che abbiamo festeggiato qualche giorno fa è un simbolo che in realtà deve ricordarci quanto è importante tutti i giorni, la nostra unica casa alla fine. Ora è il momento di dare la parola dopo aver salutato il nostro meteorologo Filippo Tire, è il momento di dare la parola a Sveva, che ci porta a dove? Allora Emanuele, Filippo, condivido pienamente, Filippo, pensa che ogni volta che vedo quella fotografia della Terra che fluttua nello spazio blu illuminata in questo buio assoluto, mi commuovo, capisco la fragilità è l'unica casa che abbiamo, come dice Emanuele, dovremmo imparare a proteggerla meglio. Vabbè, ma noi ogni giorno vi spieghiamo come fare, no? In qualche modo diamo consigli, la mostriamo e cerchiamo di contribuire, dare il nostro piccolo contributo.